Scure della Corte dei Conti sul Consiglio regionale della Campania. 34 inviti a dedurre sono stati notificati, tra gli altri, al Governatore De Luca e Alex Caldoro. Per i magistrati contabili la sua costituzione, avvenuta il 9 dicembre 2015, fu essenzialmente illegittima, inutile ed anche dannosa. Una inutilità segnalata da un dirigente dell'Ufficio Legislativo della Giunta regionale della Campania. La Commissione speciale sulle società partecipate istituita dalla Regione Campania, che ha operato tra la fine del 2015 e gli inizi del 2018, fu un inutile doppione costato alla collettività oltre 311 mila euro. È quanto sostiene la Procura della Corte dei Conti della Campania, che ha emesso 34 inviti a dedurre nei confronti di altrettanti consiglieri regionali della Campania, tra i quali figurano anche l'attuale Presidente Vincenzo De Luca e l'ex Governatore Stefano Caldoro. L'Ufficio di Presidenza è costato tra il 2016 ed il 2017 oltre 87 mila euro, mentre oltre 203 mila euro sono costate le 5 unità costituenti il personale. A questa somma vanno anche aggiunti i costi della proroga di altri due mesi, votata per Alzara di mano il 30 gennaio 2018, che ammonta quasi 21 mila euro. Entro 45 giorni gli indagati potranno depositare le proprie deduzioni in merito al danno erariale contestato. L'insediamento e la Costituzione, invece, avvennero nel corso della seduta consigliare del successivo 19 gennaio. In quell'occasione fu eletto Presidente Luciano Passariello, di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, consigliere con funzioni di Vicepresidente Gianluca Daniele, del PD, e Monica Paolino, Forza Italia, fu eletta consigliere con funzioni di segretario. Le richieste di proroga vennero approvate per altre tre volte, il 29 dicembre 2016, l'11 luglio 2017 ed il 30 gennaio 2018, e la Commissione rimase in funzione fino al 19 marzo 2018, dopo aver preso in analisi complessivamente le situazioni gestionali di una dozzina di enti orbitanti nella cosiddetta galassia regionale. Per due anni abbiamo denunciato puntualmente l'illegittimità delle proroghe concesse per i lavori, rivelatisi tra l'altro inconcludenti della Commissione d'inchiesta sulle società partecipate della regione Campania. Abbiamo presentato ben due esposti, grazie ai quali oggi la Corte dei Conti ha aperto un'indagine per danno erariale, notificando avvisi a dedurre per 34 consiglieri regionali, dichiarano Valeria Ciarambino e Maria Muscarà, consigliere regionale Campani del Movimento 5 Stelle. I risultati vennero riportati brevemente in una ventina di pagine di relazione finale consegnata il 20 marzo 2018. Dati, sottolineano gli inquirenti, che potevano essere acquisiti anche attraverso l'esame di alcuni dei siti istituzionali. È stato al punto inconcludente il lavoro della Commissione, che all'esito dei lavori il presidente Passariello si è addirittura vergognato di leggere la relazione in aula, limitandosi a inviarla via e-mail. L'unico risultato ottenuto, come conferma l'indagine della magistratura contabile, è quello di aver sperperato impropriamente il denaro pubblico. Ben 300 mila euro tra uffici di presidenza e spese per il personale assegnato di supporto, concludono le consigliere regionali.